Le evoluzioni e le sfide della modernità, i nuovi orizzonti per l'impresa e per l'organizzazione della produzione, ma anche gli effetti sociali sull'uomo, sulla famiglia e sull'economia, sono state le tematiche oggetto di confronto tra diversi mondi, quello della politica, dell'industria e della religione, chiamati a guardarsi negli occhi per capire la direzione che si sta seguendo. Una necessità perché componenti incindibili della vita e della quotidianità, ma che invitano alla riflessione e non in maniera separata. Per questo non bisogna dividere un aspetto dagli altri, piuttosto puntare ad una valutazione d'insieme, in considerazione di quelle che saranno le prospettive del futuro, che è possibile ipotizzare e intravedere. La moralità dei ricercatori è una modalità degli imprenditori che poi applicano le loro ricerche e la moralità si costruisce, si costruisce con il dibattito pubblico, con la istruzione, con i grandi valori a cui lavorano le comunità religiose, ma direi anche le grandi comunità, la stessa Repubblica, gli ambiti ideologico-morali lavorano in questa direzione. Non c'è altra possibilità, poi credo che spetta ai governanti cercare di mettere delle norme, governare i processi, ma questo sappiamo già in partenza che è un ambito difficile da governare, perché tu devi mettere delle regole a cose che già sono sperimentate ed esistono, a modo di essere e di fare. Mettere delle regole a ciò che non esiste ancora o che è in via sperimentale è molto difficile, però è necessario, quindi siamo nel crinale tra diritto, etica e regolamentazione e ricerca.